Musica Prosegue l'ondata di maltempo in Liguria, mareggiate in aumento tra questa sera e la mattinata di domani, temperatura insensibile calo e giovedì prevista neve con sconfinamenti anche sulle zone costiere. Un consiglio comunale ad hoc e una raccolta firme. Queste le iniziative del Comune di Chiavari in vista dell'incontro al Ministero dei Trasporti per chiedere di fermare il progetto delle barriere acustiche lungo la ferrovia. Il Papa ci ha stimolati ad essere fedeli alla nostra missione. La testimonianza di una mamma di una casa famiglia della comunità Papa Giovanni XXIII di Genova la famiglia è il luogo da cui ripartire. E' possibile educare i giovani alla pace? Il tema sarà affrontato domani a Genova nel ciclo di incontro alla città. Si parlerà di guerra ma anche di percorsi formativi nel cinquantesimo anno dall'istituzione del servizio civile come alternativa al militare. Buongiorno ai telespettatori di Tiguglia. Oggi il meteo in apertura con il sensibile calo termico registrato a inizio di questa terza settimana di gennaio. In Val d'Aveto la colonina di Mercurio è scesa a meno 5,8 gradi nella notte sul Monte Bue innevato. Neve anche al prato della Cipolla e a Rocca d'Aveto dove il termometro si è attestato sui meno 3,8 gradi e meno 2,1 grado centigrano. Sulla costa invece a tenere destra l'attenzione è la mareggiata di Libeccio che nella notte è scesa di intensità ma per la quale si prevede una ripresa dalla serata di quest'oggi. Arpal ha confermato la visio meteo per mareggiata per la giornata odierna. Tutti questi fenomeni sono l'effetto della profonda circolazione depressionaria in sviluppo sull'Europa centro-settentrionale che manda impulsi di aria fredda artica sul Mediterraneo. Lo scenario meteo dunque ci introduce alla stagione invernale vera e propria, una situazione destinata a protrarsi nei prossimi giorni con un picco nella giornata di giovedì dove i fiocchi bianchi potrebbero scendere anche sulla costa. Sentiamo a questo proposito Daniele Laiosa, presidente del Limet. Vento, mareggiata, che cosa ci dobbiamo aspettare nelle prossime ore? Sì, dopo l'attenuazione del Libeccio che si è avuta nella notte ma in ogni caso rimane teso questa mattina e nuovamente in burrasca diciamo a largo, è previsto un ulteriore rinforzo della ventilazione nel corso del pomeriggio sera e un nuovo colpo di mare che andrà a cavallo della serata odierna con la giornata di domani. Che cosa ci dobbiamo aspettare per quanto riguarda le temperature? Allora, l'ingresso di correnti molto fredde di estrazione artica ha già determinato una diminuzione in quota delle temperature. Questa diminuzione nei prossimi giorni si trasferirà anche al suolo che non ci sarà ad ogni modo tra tiguglio, spezzino, vento forte ma giovedì è un'ipotesi che stiamo ancora considerando, stiamo ancora avvaliando. Ci potrebbero essere dei fenomeni nevosi anche a quote basse che per il momento sembrerebbero diciamo relegati all'interno del Levante, la Valdivara e lo spezzino bisogna valutare poi un eventuale coinvolgimento del tiguglio. E dobbiamo aspettarci un calo significativo delle temperature? Sì, rispetto ai valori che ci sono ancora oggi si è già avuta una diminuzione però ci sarà un ulteriore calo tra mercoledì e giovedì. Non andremo sotto la media del periodo, almeno sulla costa, complice diciamo la copertura nuvolosa però un calo di 5-6 gradi apprezzabile. Invece gelo diffuso sull'Appennino. Possiamo dire che è arrivato l'inverno? Sì, questa fase almeno su Europa possiamo parlare proprio di inverno con la I maiuscola. Vediamo quanto durerà perché sembrerebbe poi sul proseguo che ci sia di nuovo un cosiddetto spanciamento dell'alta pressione che quindi porta con sé aria nuovamente più umite e diciamo poi una stasi atmosferica. Lutto nel mondo della sanità ligure per l'impreviso decesso di Salvatore Giuffrida, direttore generale dell'ospedale policlinico San Martino di Genova. Ad annunciarne la scomparsa è stata proprio la direzione sanitaria del nosocomio genovese unanime il cordoglio espresso in queste ore da rappresentanti di enti e istituzioni. La sanità ligure perde uno dei suoi pilastri, scrive il presidente Giovanni Totti. Ci lascia un uomo serio e coraggioso ma soprattutto un amico. Le parole dell'assessore regionale alla sanità Angelo Grattarola. Sconcerto e vicinanza ai familiari è quanto manifestata dalla UIL Liguria. In una nota anche il capogruppo del Movimento 5 Stelle Fabio Tosi, in regione con il collega Paolo Ugolini, si dicono profondamente addolorati per l'improvvisa scomparsa di Giuffrida. E la politica amministrativa? Un consiglio comunale ad hoc e una raccolta firme. Queste le mosse del comune di Chiavara in vista dell'incontro al Ministero dei Trasporti, fissato a Roma per il 31 gennaio, per chiedere di fermare il progetto delle barriere acustiche lungo la linea ferroviaria. Giovedì pomeriggio convocate le commissioni consigliari e alle 19 la seduta del Consiglio con le comunicazioni del Sindaco. Sentiamo. L'obiettivo è arrivare compatti e uniti all'incontro fissato al Ministero dei Trasporti con il sottosegretario Edoardo Rixi il prossimo 31 gennaio. Sarà questa la sede formale nella quale dare voce alla contrarietà di tutto un territorio al progetto di costruzione del barriere fonoassorbenti lungo la linea ferroviaria del Levante Ligure. A questo proposito l'amministrazione di Chiavari ha deciso di portare il dibattito all'interno dell'aula del Consiglio Comunale che in via straordinaria è stato convocato per giovedì. Si è ritenuto di portare subito al Consiglio Comunale l'attenzione del Consiglio Comunale e questo progetto lo illustrerà il Sindaco che ha acquisito tutta la documentazione. Abbiamo incaricato anche un legale per fare eventualmente azioni legali laddove ve ne fosse bisogno ma abbiamo già preso contatti anche con il Vice Ministro Rixi che ci ha aperto la possibilità di dialogo e il 31 avremo quindi un incontro per parlare di questo. Naturalmente è opportuno arrivare a questi incontri in cui un territorio si presenta al governo con la certezza di tutta una serie di compattezza su questo progetto. Nel pomeriggio di giovedì si riuniranno anche le commissioni consigliari prima e seconda in seduta congiunta per discutere e approfondire il progetto presentato da RFI. Un piano che parte negli anni 2000 e che adesso le ferrovie stanno attuando per lotti. Alcuni sono stati realizzati, altri invece fermati. È il caso della Costa delle Marche dove la mobilitazione compatta di un intero territorio è riuscita a far far retromarcia alle ferrovie. L'auspicio è che si riesca in questa operazione anche nel Tiguglio. Le iniziative non mancano dall'azione del Comitato No Barriere che tra le altre cose ha iniziato a raccogliere le firme dei cittadini, iniziativa alla quale si affiancherà anche quella del Comune. Disporre una raccolta di firme direttamente in Comune in modo da dire il nostro territorio non vuole questo progetto e quindi il fatto delle firme che sono state raccolte dal Comitato e le altre firme che porteremo dimostrerà questa contrarietà che aiuterà chiaramente a smontare questo progetto che secondo noi è inutile, dannoso per il nostro territorio. Sarà utile in altri territori ma nel nostro non sembra avere quell'efficacia che auspica ferrovie dello Stato. Anche quest'anno il Comune di Santa Margherita Ligure mette a disposizione 25 mila euro che verranno distribuiti tra i proprietari di tratti di muri che fanno argine a rivi e fossati nelle zone collinari perché li mantengano in buone condizioni di stabilità. La cifra verrà suddivisa fra chi ne farà richiesta fino a esaurimento della somma disponibile. Gli importi verranno erogati a chi avrà effettivamente realizzato i lavori entro la fine dell'anno. Le domande dovranno essere presentate entro il 28 febbraio. Tutti i dettagli sul sito dell'ente www.comunesml.it. A Recco l'amministrazione comunale ha programmato la riasfaltatura di quattro tratti di via Roma e della provinciale 333. Si parte domani dalle 8.30 alle 12.30 con il ripristino della zona all'uscita del ponte autostradale e dalle 13 alle 16.30 con la zona di via Roma all'altezza della pescheria. Giovedì invece la mattina toccherà la provinciale e al pomeriggio un secondo tratto di via Roma. Le strade resteranno aperte a senso unico alternato. E voltiamo pagina. La famiglia è il luogo che accoglie e cura tutti, il punto da cui ripartire. Si potrebbe sintetizzare così il pensiero di Papa Francesco rivolto alle famiglie della comunità Papa Giovanni XXIII accolte in Aula Paolo VI. Un momento gioioso e tanto atteso soprattutto dai bambini e adolescenti che hanno trovato nelle case famiglia un luogo dove sentirsi amati e curati. Sentiamo. Con un cuore colmo di gratitudine i rappresentanti della comunità Papa Giovanni XXIII sono andati incontro a Papa Francesco che ha accolto in Aula Paolo VI circa 700 bambini e ragazzi delle case famiglia. Il pensiero va al fondatore di questa realtà, Donoreste Benzi, al quale il Papa si rivolge ad alta voce dicendo grazie Donoreste. L'assemblea risponde così. Il nostro responsabile generale Paolo Ramonda ha detto che Donoreste, i bambini lo chiamavano Nonoreste e quindi ha chiesto anche a Sua Santità se poteva concederci il lusso di essere chiamato Nonno Francesco, Nonno Papa Francesco, quindi dai questo è stato molto bello. La famiglia è il luogo dove curare tutti, sia le persone accolte sia quelle accoglienti, perché è la risposta al bisogno innato di relazione che ha ogni persona, spiega il Papa, una caratteristica che Donoreste aveva intuito. Lui diceva che non c'è dolore, non c'è sofferenza nell'animo dell'essere umano che non possa essere rimarginato in un'esperienza di famiglia. Carmela, insieme al marito Pietro, è mamma di una casa famiglia che risiede nei pressi del santuario di Nostra Signora della Guardia a Genova. Noi attualmente siamo in otto, siamo io e mio marito, le nostre due figlie biologiche e altri tre, quattro figli in affido, insomma. Quattro adolescenti, più una ragazza, una donna di 46 anni, anche con disabilità psichica, vive con noi, quindi in tutto siamo otto. Le parole del Papa hanno dato un nuovo slancio a ciascun nucleo familiare, non privo di fatiche quotidiane. Siamo esseri umani, non siamo supereroi, siamo proprio persone ugualissime a tutti quanti gli altri. Però sicuramente incontrare il Papa Francesco che comunque ti stimola, ti sprona comunque ad essere fedeli a questa vocazione bellissima che il Signore ci ha affidato e ovviamente ti fa ripartire con un entusiasmo ritrovato e rinnovato. La notizia della scomparsa del 14enne è rimasto vittima di un incidente mentre attraversava in Canoa il fiume Entella, ha suscitato profondo cordoglio in tutto il territorio Ligure. Questa mattina la dirigente scolastica del Natta De Ambrosisi di Sestri Levante, Paolo De Vincenzi, di cui il giovane era allievo iscritto al primo anno, ha scritto una lettera a tutta la comunità scolastica. Con grande sensibilità e attenzione la dirigente invita tutti ad aprirsi con spirito solidale e fiducioso al dialogo e al confronto. Il compito, suggerito dalla preside, è stare accanto con delicatezza di sentimenti e concretezza di gesti alla mamma e alla sorellina e il resto della famiglia trasmettendo loro tutto l'affetto di quanti hanno voluto bene e amato il giovane prematuralmente scomparso. Dalle 10 a 12 febbraio la sottosezione Unitalsi di Chiavari organizza un pellegrinaggio a Lourdes in occasione del 165esimo anniversario delle apparizioni mariane. Il viaggio sarà in Pullman. Per informazioni il numero da contattare è lo 0185 30 88 15. Anche la sottosezione di Varazia organizza un pellegrinaggio a Lourdes nelle stesse giornate con partenza da varie località del Savonese. Per informazioni in questo caso il numero di telefono è il 334 933 6752. E domani alle 18 nella sala quadrivium di Genova il pedagogista Daniele Novara e il condirettore della Caritas di Savona Don Adolfo Macchioli interverranno sul tema Educare alla pace è ancora possibile, i giovani e la speranza. Nell'ambito del ciclo di appuntamenti incontro la città organizzato dalla Diocesi di Genova con il filo condottore del tema della cura. Sentiamo. Educare alla pace è ancora possibile, i giovani e la speranza. È il tema scelto per il secondo appuntamento del ciclo incontro alla città in programma mercoledì 18 gennaio alle 18 alla sala quadrivium a Genova. È un'occasione di riflessione che la chiesa che in Genova vuole offrire alla cittadinanza indipendentemente dalla fede dei partecipanti facendo seguito alla lunga e felice esperienza di cattedrale aperta. L'impianto nuovo vuole coinvolgere di più il mondo civile. Cerchiamo sempre di tenere alto il livello degli ospiti e che sia occasione di dialogo e di crefita. Il sottotitolo del percorso annuale è per una cultura del prendersi cura. Filo rosso di una riflessione iniziata lo scorso anno. Noi abbiamo voluto declinare questa dimensione sotto vari aspetti. Abbiamo iniziato lo scorso anno con una riflessione di chiave piuttosto sociologica. Continuiamo adesso di chiave pedagogica. E posso annunziare che il prossimo aprile ha confermato la sua presenza il carinar Ravasi che ci aiuterà a leggere questo tema in chiave biblica. In autunno poi pensiamo di continuare probabilmente anche cercando tematiche di ordine psicologico e medico. Il tema scelto per l'incontro del 18 gennaio è quello della pace declinato secondo un'accezione particolare la cura per l'educazione dei giovani in un contesto di ipersemplificazione che talvolta scarta l'impegno come presupposto per percorrere tappe successive il che assume un valore ulteriore nel cinquantesimo anno dall'approvazione della legge che legittimò il servizio civile quale alternativa al servizio militare. La pace, una cultura della pace sono da un lato un'espressione di prendersi cura autenticamente dell'umanità e dall'altro il prendersi cura invece dei nostri giovani un'attenzione pedagogica autentica deve tenere conto di questa dimensione e di aiutare a sradicare quelle radici di violenza che sono certamente nel nostro cuore ferito dal peccato ma che in questa società rischiano di alimentarsi in una maniera anche superficiale. Fabrizio Masella, presidente del Soccorso Alpino Liguri sono aperte le iscrizioni al corso di potatura per le piante d'olivo organizzato dalla cooperativa Olificoltori Sestresi si svolgerà dal 9 all'11 febbraio docente sarà il professor Riccardo Gucci dell'Università di Pisa che proporà momenti di formazione sul campo e in aula i posti disponibili sono 35 le iscrizioni terminano il 31 gennaio Lini adesso la rassegna stampa vediamo i titoli dei giornali edicola quest'oggi ci rivediamo dopo per altri aggiornamenti A venire titola in cella l'ultimo padrino arrestato il capo mafia Matteo Messina Denario in una clinica a Palermo i magistrati e i carabinieri dicono lo dovevamo alle vittime fondamentali le intercettazioni preso dopo 30 anni di latitanza restano i misteri sulla malattia il covo non trovato le coperture e l'intervista a Don Ciotti ora attenti agli errori la mafia è già molto cambiata anche l'editoriale a firma di Paolo Borrometti dice perché storia sia davvero questo giorno e la lotta alla piovra che non deve finire poi i cristiani martirizzati in Africa bomba in chiesa nel nord Kivu provoca 14 vittime sacerdote ucciso in Nigeria i dati di Oxfam all'1% ricco del mondo va al 63% della crescita più disuguaglianze in Italia pesano i salari in ribasso Alexei così russi mi hanno torturato 40 nopi morti a Dnipro nella città ucraina e decreto contestato i benzinai tornano a minacciare la serrata niente intesa scattano gli aumenti alle colfe più 9% per le badanti passiamo al secolo XIX il padrino nella trappola il pauso di Mattarella successo dello Stato Meloni un giorno di festa le intercettazioni gli istituti di chemio e la ragnatela dei Ross e ancora la notizia invece del luto che ha colpito il mondo dello spettacolo morta Gina Lollobrigi dalla star che fece innamorare il mondo aveva 95 anni e poi ancora dalla prima pagina del secolo i medici aggettoni coprono in Liguria il 6% dei turni i dati che arrivano dagli ospedali poi la tragica notizia che ha colpito il Tiguglio e Sestri Levante in particolare Andrea 14 anni ribaltato in canoa non ce l'ha fatta in tela tragico siamo anche allo sport con il Genua che lotta e soffre ma un guizzo di coda fa crollare il Venezia e poi la Samp che cade a Empoli pare annullato dal VAR l'Anna ci vogliono in B nella pagina del Levante libecciata sulla costa porti sorvegliati speciali e passeggiate chiuse soprattutto sulla parte più orientale del Golfo Val Davito in biancata il ritorno della neve investimento sul futuro precipitazione ad alta quota per una prima spolverata e andiamo a Recco con i sei progetti da finanziare corsa alle risorse del PNRR il Comune partecipa ai bandi per digitalizzare l'amministrazione il Sindaco Gandolfo sfida fondamentale per l'estensione delle piattaforme elettroniche il colpo più rilevante resta quello legato alla trasformazione delle maestre pie che vediamo in questo rendering fotografico si cerca di sfruttare al massimo ogni possibilità offerta dai fondi europei ora per gli aggiornamenti andiamo in redazione dove troviamo pronta Emanuela Castello qui va la linea Andrea buongiorno a tutti in realtà non è proprio un aggiornamento perché continuiamo a parlare di fauna selvatica un tema che interessa molto da vicino tutta la nostra regione ma è un problema di carattere nazionale oggi torna su questo argomento Luca De Michelis presidente di Confagricoltura Liguria l'associazione ha deciso oggi di diffondere alcuni dati che sono stati raccolti da Ispra Ispra segnala una proliferazione altissima del numero di cinghiali un po' in tutto il nostro paese in particolare si conterebbero appunto secondo questa ricostruzione un milione e mezzo di esemplari di cinghiale su tutto il territorio nazionale le campagne di selezione ovviamente sono cresciute ma secondo quanto riferisce Confagricoltura Liguria questo non basta ed è necessario un ripensamento complessivo delle campagne di contenimento del numero di esemplari anche nella nostra regione in particolare Confagricoltura chiede invoca dalle istituzioni un nuovo modello che tenga insieme gli interessi delle imprese agricole e la tutela ambientale un modello che segnala Confagricoltura oggi è possibile le regioni più colpite in realtà sono Abruzzo e Piemonte ma per quanto riguarda la nostra regione si stima una presenza di circa 45.000 50.000 esemplari di cinghiale insomma un tema che continua a tenere alto il livello del dibattito oggi anche con questo contributo dalla redazione Tutolinea lo studio è una notizia di sport prima puntata del 2023 per Telepace Sport la trasmissione dedicata alle realtà sportive della Liguria lunedì sera al teatro Caritas di via Marana Chiavari si è parlato di pallanuoto con gli atleti e i tecnici della Rarinantes Camogli dai successi della squadra maschile in A2 al primo posto con 8 partite vinte su 8 giocate all'attività delle squadre giovanili era presente anche il circolo golf e tennis di Rapallo con atleti e tecnici di entrambe le discipline dai bambini più piccoli fino ai ragazzi dell'attività agonistica spazio poi anche al calcio con la polisportiva Leivese società nata quest'anno che milita nella terza categoria Telepace Sport ritorna lunedì prossimo 23 gennaio alle 21 su Telepace 1 al Canale 12 in chiusura uno sguardo all'agenda degli appuntamenti per la giornata di oggi Nell'ambito della rassegna Mondovisioni i documentari di Internazionale alle 16.30 alle 19 e alle 21 al Film Club di Salita Santa Caterina a Genova verrà proiettato H2 Occupation Lab documentario sulle condizioni in cui vivono gli abitanti di una sola strada di Ebron 11 storie di resistenza 11 anni della Turchia è il titolo del libro di Murat Cinar che verrà presentato alle 17.30 nella sede di Arci Zenzero in Via Torti a Genova in occasione della giornata del dialogo ebraico cristiano alle 18 nella sala Quadrivium in piazza Santa Marta a Genova si terrà un incontro sul tema Uno Sguardo Nuovo interverranno il rabbino capo della comunità ebraica di Genova Giuseppe Momigliano il pastore della chiesa valdese di Genova William Jordan il docente di Sacra Scrittura Don Paolo Costa alle 18.30 allo Space for Business di Via Brigata Bisagno a Genova verrà presentato il libro Ombre Azzurre di Filippo De Grenet interverranno l'autore e l'editore Stefano Termanini E' tutto per questa edizione di Teguli Oggi l'informazione torna questa sera alle 19.15 continua sul nostro sito sul canale Telepace News grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata grazie a tutti 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.